salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra avventura qui in project zomboid ci siamo rintanati in questa casa dopo un camminare o un vagare senza meta all'interno del bosco siamo riusciti appunto a trovarci questa sistemazione momentanea ci siamo rifocillati sono riuscito anche a dormire così abbiamo tolto il malus della stanchezza e siamo pronti per ripartire sono le 5 e 50 quindi di buon mattino direi di incamminarci e vedere appunto com'è la situazione qui fuori intanto c'è un capanno qua che vorrebbe magari di tornarci utile per fortuna è anche aperto noi purtroppo non ho niente ancora per poter mettere più cose rastrello la chiave inglese questo non sarebbe male però ecco non ho spazio e quindi potrebbe essere un problema e impugna domani e niente è inutile è un oggetto a figo poi prenderlo da una parte e posizionarlo a terra e niente purtroppo non ci interessa e magari il tubo di metallo ce lo prendiamo impugniamo primario così evitiamo di utilizzarci la padella e il tubo è decisamente meglio e lo mettiamo anche dietro come predefinita ok allora continuiamo un po perché ero speranzoso di trovare magari una una serie di case per poterci e rifocillare ma già vedo che è tutta bella campagna e ovviamente anche piena di zombie lei signora via un attimo qui zitta ok allora vediamo un attimo com'è la situazione ricinto sì noi vediamo da qui verso da sud diciamo la c'è un gruppetto di zombie qui la strada in verità continuava però poi diventava sterrata quindi deduco che vada un po a morire da quella parte quindi proseguiamo qui verso verso sinistra teniamoci lontani ovviamente dai gruppetti di zombie e proseguiamo purtroppo ecco non avendo mappa niente vaghiamo un po così appunto senza una meta precisa e bisogna cercare di arrivare da qualche parte prima o poi sta strada da qualche parte arriva sicuramente allora qui altro terreno un po malconcio noi ci spostiamo più verso sud perché stanno c'è un gruppetto di zombie lì magari evitiamolo ok ci partiamo più in qua sperando che non ci venga la rompe scatole teniamo lì d'occhio ok vanno addirittura verso su verso nord quindi a posto per noi così si sono spostati loro a sto giro per il momento camminiamo perché non so quanta strada dobbiamo fare c'è una casa qua sotto si ottimo andiamo un po a vedere tutte casette sparse lungo la strada quindi è una zona decisamente periferica quella che stiamo battendo quindi purtroppo ecco non avendo una mappa e soprattutto anche se la trovassimo dobbiamo sperare di trovare quella corretta e per avere un attimo un'idea più chiara di com'è la situazione allora vediamo un po sembra abbastanza grande questa questa casa vediamo se c'è magari ok passa attraverso aspetto sempre un attimo perché potrebbero esserci lei degli allarmi quindi e di finestra anche che avevo chiuso la tenda non la finestra vediamoci un po in giro qui infatti stavo proprio a dire vediamo se è occupata ok allora come sempre giretto a chiudere tende chiudi tende chiudi tende perfetto ok continuiamo il nostro giro un altro che sta arrivando anche qua chiudi tende cazzo è ma non si può stare un attimo tranquilli chi è che bussa a quest'ora del mattino e che cos'è e niente n'altro dai avanti il prossimo lei ok e che cazzo è ma non si può stare un attimo tranquilli allora beviamo un attimo e bevi ok qui chiudi tende perfetto poi diciamo ci andiamo a controllare le cose però voglio prima vedere se è tutta libera la casa c'è anche un secondo piano quindi potrebbe essere bella 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 pienotta quindi chiudi tende anche qui perfetto qua com'è la situazione ok qua di tende non ci sono accendiamo tutto tanto per il momento la corrente c'è ancora qua chiudi tende e anche qua perfetto perfetto continuiamo ad esplorare altra bagno e chiudi tende per fortuna ci sono la maggior parte delle stanze ce l'hanno quindi non è un problema allora iniziamo a controllare allora qui niente qui c'è delle fasciature da band adesiva che ci serviranno ehm beta bloccanti eh non sarebbe male come cosa e appunto la fasciatura ok ci serve qualche cazzo di di cosa per per tenere la roba qualsiasi cosa una borsa, uno zaino, una cartella o qualsiasi cosa purché possa servire eccolo lui c'è una borsa attenzione pronto soccorso principiante intanto ci serve e ce la prendiamo eh siamo anche un pochettino appesantiti ora però eh aspetta un attimo che quello ci serve aspetta poi continuiamo l'esplorazione quello c'ha appunto una tracolla che potrebbe fare al caso nostro in attesa di qualcosa di meglio ovviamente però sempre meglio di nulla a cazzo quanti ne siete ed è finito artizio di prima vabbè vabbè proviamola signori venite mi sa che è questo qua siete studenti liceali fuori corso cazzo dai ok mamma mia fortuna sono morti abbastanza velocemente allora borsa indossa sulla schiena vole giacca college maglietta pantalone orologio ok va bene comunque questa giacca non sarebbe male da un bel po' di roba però è insanguinata allora facciamo così noi ce la prendiamo ora spostiamo un po' di cosa nella cartella non so quanto effettivamente ci possa entrare però comunque sia e ci andiamo però la giacca la andiamo a lavare la possiamo pa 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 in teoria dovrebbe potermelo fare lava si chiama giacca college giacca college ok così la laviamo così non ce la mettiamo insanguinata che già qualcosa in attesa che poi se si asciuga facciamo il cambio con quella che abbiamo noi cosa che ora siamo ancora particolarmente più carichi questa la spostiamo qua e allora le bende pure le mettiamo l'apri scatole i beta bloccanti tutta roba che poi comunque lui poi sposterà nell'inventario principale una volta che ci serviranno però per il momento li spostiamo dire pronto soccorso principiante poi ce lo andiamo a leggere e le farbici il cacciavite per ora e e e e e siamo ancora abbastanza pesantini eh i fiammiferi cioè che abbiamo sia il basso elettrico che la padella e tutto qua ci abbiamo aspettiamo un attimo la padella 12 e 82 antidepressivi ok mancano sti 56 che potremmo magari spostare gli stracci ok le uova ok sto spostando tutto ma ancora non sono riuscito a liberarmi mancano 0,35 grammi ho tolto tutto praticamente quindi eeeh orologio no se tolgo l'orologio poi non ce l'ho più quindi questo impugna ma posso pure smontarlo addirittura l'orologio figata eeeh scarica che vuol dire non lo so impugna no indossa sulla mano sinistra ok e niente per ora andiamo un attimo così carichi poi vediamo allora finiamo su eeeh poi scendiamo al piano superiore sottostante cioè eeeh vediamo un po' che cosa c'è dentro allora qui abbiamo fatto tutto quanto tra l'altro magari il libro leggemoselo subito così poi lo lasciamo e non ci portiamo peso addosso ok dai velocizziamolo un attimino in teoria dovremmo avere tipo lettura veloce quindi dovrebbe metterci tantissimo spero velocizziamo al massimo ok aspetta abbiamo una fasciatura sporca che insomma da un po' che non si fermate un secondo questo è sorto nella nella lettura però aspetta un attimo eeeh fasciatura ok qui già che ci siamo la puliamo e vediamo pure già che ci siamo dai allora quanto manca ancora con sto libro leggi dai ho anche fame da nazione infatti abbiamo lettura veloce porca trodo ok che vabbè insomma ci vuole comunque un pochetto però insomma speravo fosse un po' più veloce pensa normale allora mi viene mi viene da dire dai l'una dai dai che manca poco così magari riusciamo a imparare anche qualcosina in più dai che manca pochissima ok perfetto ferma tutto ok eeeh mangiamoci tutta sto sto pollo e uova tra l'altro avevo fatto anche una nuova ricetta pollo e uova quindi possiamo insomma mangiarcelo eeeh pronto pelle costume da bagno rosso magari no guanti senza dita eeeh oddio questi magari indossali potrebbero comunque darci un riparo calzini più dei pantaloni qua che c'è eeeh antidolorifici buoni benda adesivi sì dura lavandini magari non ci interessa c'è un lenzuolo una pinza un sapone una tinta per capelli anche no qua pure chiuditende ok beviamo eeeh bevi ok allora giacca è ancora bagnata? no si è asciugata quindi la possiamo indossare e quella che abbiamo non so se la va a mettere addirittura sopra ma mi sa di sì mi sa di sì eh sì 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 scarpi insanguinate eeeh camicia e jeans insanguinata magari no quindi facciamo una cosa lava eeeh pa 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 camicia e jeans insatto comunque sopra abbiamo la giacca la togliamo eeeh per il momento la togliamo nella borsa come abbiamo fatto con con la giacca in attesa che vada ad asciugarsi ok ok almeno non teniamoci la roba bagnata addosso perfetto eeeh cioè perfetto insomma non abbiamo trovato poi niente di che però comunque si è meglio di nulla eeeh qua non c'è niente ovviamente quindi scendiamo giù ok iniziamo da qua forchetta eeeh niente qua che altro c'è ah la mega cucina qua spero ci sia qualcosa di interessante tra l'altro dobbiamo anche rifarci nuovo i piatti perchè l'abbiamo eeeh eeeh l'abbiamo usati la bottiglietta buoni ben due addirittura l'anigine ad azione della dota eeeh 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 rosso eeeh caffè forno a microonde taglia da forno taglia da forno taglia rotonda o niente allora nel forno accendi ci facciamo sempre tramite la nostra bella padella crea eeeh uovo fresco ok e basta perchè ci abbiamo solo quello eeeh si ma quante uova ha? tecnicamente possiamo aggiungerci penso nient'altro ok allora la mettiamo dentro il forno lo facciamo cuocere ok sta cuocendo credo si forse si anche qua velocizziamo un po' il tempo il tempo che insomma che ci vuole ok 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 perfetto così ci siamo rifatti un bel piatto sostanzioso allora canovaccio taglia di forno qui abbiamo visto non c'è niente né nel frigo né nel congelatore ottimo così come sempre bagno nulla qua abbiamo visto ah qua c'è la sega attenzione attenzione vediamo un po' se c'entra nella cartella si ottimo sta borsa che cazzo è che cos'è ma quanti siete allora direi che abbiamo visto un po' dappertutto quindi alle brutte eeeh elettrica per principianti questo ce lo prendiamo magari poi ce lo leggiamo con karma tutti quelli per principianti è bene eeeh ovviamente portarselo pollo eeeh questo è cotto quindi mandiamocene un quarto così cerchiamo di aumentare un po' la le nostre conoscenze allora visto che la stanno bussando insomma dalla porta noi magari uscimo da quella di servizio che è qua ok il problema è dove andare allora qua c'è un'altra recensione e le strade è qua che si diramano un po' ovunque in verità qui c'è un'altra casa andiamo giù anche se sembra l'ultima del del vialetto però comunque potrebbe tornarci comodo chissà che cosa potremmo andarci a trovare ok quello sta lì buono e tranquillo spero qua c'è un gruppettino di due potremmo comunque gestirceli eh allora vediamo un attimo la camicia jeans è ancora bagnata perché volevo eventualmente ehm metterla è sempre un un supporto in più e una sicurezza in più ok vediamo se arriva uno per volta magari ok per il momento sì perfetto ehm ok matita calzini jeans va bene niente che ci possa interessare non è che qualcuno c'è una mappa no sigaretta calzini canotta maglietta niente niente assolutamente niente dai cioè qua intanto allora via una porta sfondata in un fu Futuro connessione è arrivato Che cazzo è una tv Spegni un attimo Spegni il dispositivo Spegni Perfetto Posso disassemblare Ah si posso con il cacciavita Attenzione Abilità elettrica Fai un po' Vediamo un po' se riusciamo magari Ma se un pia ma la scossa Perché se no è finita Tra l'altro non c'ho mancata la porta Quindi Però ecco potrebbe Intanto ci Vi faccio vedere anche le abilità Sono riuscita a mettere il primo quadratino Per quanto riguarda cucina Perché insomma la stiamo utilizzando E adesso abbiamo il pronto soccorso Un po' perché l'abbiamo Comunque Non si riesce a ottenere Anni a tenere utili Vabbè niente Pazianza insomma Dicevo comunque pronto soccorso Abbiamo letto il libro per il principiante Comunque poi magari andando a utilizzare Le varie bende eccetera Aumentiamo un pochettino E adesso che comunque Avevamo riusciti a prenderci Appunto elettronica Abbiamo guadagnato due punti e mezzo Perché comunque l'abbiamo disassemblata Però non Ovviamente Capendo che caspire abbiamo fatto Non abbiamo trovato niente di che Quindi direi che Magari possiamo iniziarcela anche a leggere Sto libricino Sto libricino Andiamo a velocizzare un po' il tempo Lo so come sta annoiando fra te Sono anche le sette Spero che non entri Qualche cazzo di zombie al volo Perché sennò è la fine Dai siamo più o meno a metà La camicia jeans Intanto si è asciugata Sto annoiando a bestia Però ci serve questa lettura Non so se posso disassemblare il microonde Chissà Ok Allora Per nostra fortuna Non è entrato nessuno Quindi possiamo anche togliere Andiamo a vedere un attimo L'abilità E ci ha dato appunto La freccettina in elettronica Che sta aumentando Quindi Qualsiasi cosa facciamo Poi è mortificato per tre E riusciamo Così a poterla Avanzare Più velocemente Quindi un attimo Tendi qui Dobbiamo mangiare Assolutamente Quindi mangia un attimo Tutto questo Per le nostre uova Saltate in padella Ormai abbiamo Una dieta a base di uova Ah era già accesa Anuce Ok Allora Perché lì proprio Il principiante è dentro al forno Così Ma perché Metto per terra Il forno come serve E No Disassembla Mi serve Da accenderlo Accendi Ok Abbiamo la nostra Solida padella E Uovo casuale Chi è che bussa Parca troia Ok Sentito che stavano bussando Occhio perché non abbiamo La porta d'ingresso Quindi Vorrebbe essere un problema Ok Mente se cuoce Si è entrata qualcuno qua Ah no Cioè si ma stanno Chi ritende Quindi pure Magari non usciamo Ok Gli occhio qua E se sta bruciando E' finita eh Ok sta pucendo E ti Un attimo Ok gli ha rotto la La vetrata Dobbiamo andare via da qua Il prima possibile Chi ritende Anche se ci fosse Stata la La porta d'ingresso Non era male Per passare Perlomeno la notte Cuffie jeans Niente E Vediamo qui Sta a metà Allora abbiamo visto Che la camicia jeans La E' asciugata Quindi rimettiamocela Altro strato Per Per Tenerci Alla lontana I vari morsi Eccetera Qua c'è il mattarello Che non è affatto male Come arma Mettiamolo dentro La nostra borsa Ma appena finisce Le cose qua Andiamo al sistema Con lo zombietto Che ci sta Tra un po' Rompendo la porta Del bagno Dai che manca poco Ok Perfetto Tu Allora Oh cazzo Quanti siete Ma era uno solo Era Tu cazzo E' uscito l'auto Aia Cazzo Shisua Ok Ok Mamma mia Per poco Cioè Ci ha perso Mezzo morso Ma Non ci ha passato Attraverso I vestiti E Ok Allora Qui abbiamo Finito di raccogliere La pescata Ce l'abbiamo Qua non c'è niente E niente Le lettere principanti Vabbè L'abbiamo già fatto Ok Posso disassemblarlo Sto coso No Forno a microonde A torcia Al propano Ok Cioè La tv Siamo riusciti Ma Per frigorifero No Ci ha salvato A torcia A propano Dobbiamo Squagliarlo Praticamente Allora Ragazzi Direi che ci possiamo Anche salutare Qui Anche se Effettivamente Non è proprio Una buona Posizione Perché Comunque sia Non avendo Dicevo La porta R'ingresso Un po' Un po' Un casotto Allora Facciamo così Dormiamo un attimo Così Velocizziamo un po' Il tempo Parlando che nessuno Venga a romperci Le scatole Che è sta cacera? Vedo che abbiano Rotto qualcosa Ok Sta anche piovendo Dannazione Occhio Non so Sentivo un rumore Particolare Non ho capito Cosa fosse Va bene Possiamo anche Rimanere qui Per il momento Anche perché Fuori piove Se usciva Se fracichiamo Poi malattie Cose Sappiamo Come va a finire Quindi Che dirvi ragazzi Direi che ci possiamo Appunto Fermare qui Siamo ancora Dispersi nel nulla In verità Per fortuna Siamo riusciti A trovare Un po' Di casette Per poterci Rifocillare E recuperare Qualcosa Di utile E vediamo Insomma Di proseguire Poi lungo La strada Cercando di trovare Speriamo Un agglomerato urbano Un po' Più corposo Perché insomma Così Casette Quella Ancora Non Non ci soddisfano Appieno Quindi Come sempre Io vi ringrazio Se siete arrivati Fino in fondo Vi invito Se vi fa piacere A lasciarmi Un mi piace Un commentino A iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto In descrizione Trovate link A tutti i social network E in alto a destra Lei che vi riporta La playlist del titolo Nel caso in cui Abbiate risaltato Qualche appuntamento Di nuovo Vi ringrazio Vi do appuntamento Al prossimo video Ciao ciao